Il lancio a sinistra per Vitaliano, la rovesciata perfetta per il suo compagno che lancia la palla verso il limite dell'aria, attenzione, una girata di piatto per la girata ancora in era di rigore, Mastroianni con un po' d'affanno riesce a liberare ancora, attenzione a Villella che prende il tempo all'avversario, lancio per Gianfranco Russo, ancora Gianfranco Russo, mette la palla dentro per Felipe, azione gol della mezza team e il portiere fa un miracolo, il portiere Rapolla salva il risultato, su questo contropiede micidiale della squadra di Mazzocca, prima azione pericolosa per la squadra della mezza team, Gianfranco Russo ha dato una palla d'oro per Felipe, il portiere si è salvato distinto.